La signora è qua? La mia eronata La signora Celeste chi è? Aniele Amato La signora qui per le bianche? Alberto La mamma di Dara Augusto Remario E la signora lì con l'altra signora? L'altra in cui è seduta? E l'altra di qua? i bambini non vogliamo sapere chi sono non ci interessa tu sei ruonato a comba già qui siamo meglio giustamente e chi stiamo patrero alla rozza